Siamo a pochi giorni, pochissime ore da questo massacro, da questa strage a Parigi e nelle settimane scorse altri momenti molto difficili che non sono capitati magari nella nostra Europa, ma che sono altrettanto gravi. Cosa possiamo dire nei confronti di questa situazione che rischia un po' di minare le nostre sicurezze, ma anche forse la nostra capacità di rimanere in dialogo, di essere aperti. Rischiamo di farci un po' schiacciare dalla paura. Io ho vissuto in relazione a questi eventi due sentimenti che possono apparire contrastanti, ma convivono nel cuore. Un sentimento di sdegno, quasi di rabbia direi, nei confronti dell'uso di una violenza così brutale e insensata nei confronti di altre persone, addirittura anche di ragazzi, quindi di condanna più totale, pensando oltretutto che l'atteggiamento più vile è utilizzare una parvenza di religiosità, il nome di Dio, per uccidere. Questi non sono martiri, perché i martiri dà la vita, questi danno la morte, sono solo degli assassini. e sono stato anche colpito dal messaggio non solo che il Papa ha dato, ma anche le comunità islamiche che si sono molto smarcate, come era naturalmente desiderabile, da queste frange che non fanno bene neanche a loro. Anzi, forse loro sono in un certo senso i primi ad essere colpiti da questo atteggiamento. L'altro sentimento è un sentimento più positivo, cioè questi fatti ci richiamano come sia ancora lontana la meta della pace, ma soprattutto come sia necessario impegnarsi giorno per giorno per questa meta, perché sarebbe sbagliato reagire solo con lo sdegno o con la condanna, addirittura con la rabbia e con la violenza. Questo è quello che vogliono questi terroristi, che si crei un mondo invivibile perché possano dominare. Bisogna reagire mantenendo i nervi saldi e cercando il più possibile di continuare a stringere dei legami di dialogo, di confronto e di recupero dei valori fondamentali che sono la giustizia e la pace. Questi sono per tutti gli uomini, di qualunque fede o non fede siano. Grazie a tutti!